Sono venuto per farvi qualche domanda su Vincenzo Savastano. E chi è questo? Ma te lo s'acci? Tutto mille volte che non mi chiamo François. Eh, io mi chiamo Michelino. François è un soprannome che mi hanno dato, perché mia nonna era Francese. Comunque, favorito con noi in quest'ora. Devo venire anch'io.